PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posate al microfono, autore e curatore del podcast. Dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini, designer del suono e curatore della rubrica PCT Digitale, dove ascolterei le ultime news sul mondo digitale. Puntata speciale dedicata al Santo Natale, come ci suggerisce anche la musica in sottofondo di Esther Garcia, Looking at the Stars sotto Creative Commons. Siamo tutti reddici dalla vigilia di Natale e dai cenoni colorati dalle proprie tradizioni culinarie legate al territorio e sotto l'albero abbiamo scartato i nostri regali. Infatti Natale è tempo di regali e in questa puntata invece di parlare di processo telematico o come mi piace definirlo cartamatico, ti segnalo alcuni regali per chiudere con il botto quest'anno sempre più all'insegna della tecnologia. Anche perché ti ricordo che Cassa Forense rimborserà gli investimenti informatici degli avvocati che hanno fatto nel corso del 2016 fino al 50% al netto dell'IVA del costo sostenuto per un massimo di 1.500 euro. Il bando infatti scadrà il 16 gennaio 2017. I requisiti richiesti sono che i richiedenti devono essere in regola con l'invio dei modelli 5 e il reddito professionale deve essere inferiore a 40.000 euro, un'opportunità di Cassa Forense rivolta principalmente ai giovani avvocati tecnologici. Per richiedere il rimborso è sufficiente compilare l'apposito modulo che troverai in descrizione nel podcast, da sottoscrivere in digitale insieme alle fatture d'acquisto e a un documento di riconoscimento. Dovrai inviare i file all'indirizzo certificato di Cassa Forense istituzionale chiocciolacert.cassaforense.it. Puoi fare anche una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma so che questa soluzione, la raccomandata cartacea tuo avvocato tecnologico non la prenderai assolutamente in considerazione. Prima di segnalarti le soluzioni tecnologiche che potrebbero semplificare la tua vita digitale, ti chiedo ora io un regalo a te. Lasciami un feedback tramite una recensione in iTunes, nella descrizione del podcast infatti trovi anche il tutorial, o il commento della puntata sugli altri canali di distribuzione quali Soundcloud, Springer, oppure su Facebook alla pagina dedicata a Francesco Posati Legal Geek. Il tuo feedback è molto importante perché mi dà la possibilità di migliorare e permette anche ad altri utenti di scoprire il podcast. Un altro regalo che mi puoi fare è sostenere il podcast tramite la condivisione della puntata che stai ascoltando nella tua rete sociale. Se poi ti va di essere molto generoso, puoi finanziare in crowdfunding l'intero progetto multimediale collegandoti alla pagina patron.com.com.fposati o contribuire con 5€ alla pubblicazione delle singole puntate tramite la pagina paypal.me.com.fposati.com. Le grandi azioni iniziano sempre dai piccoli gesti. A te la scelta di come contribuire al podcast per lasciare insieme il segno in quest'era digitale. Ci caliamo ora nel vivo di questa puntata natalizia, segnalandoti i tre regali informatici che potrebbero ancora di più semplificare la tua vita di avvocato tecnologico, in un'ottica di interoperabilità, mobilità e anche con uno sguardo al risparmio che non guasta mai di questi tempi. Il primo regalo che ti vuoi fare è il gestionare in cloud Netlex.cloud della startup Netlex, semplice e professionale per una gestione integrata e moderna del tuo studio legale. Oltre a rispettare tutti gli standard di sicurezza, compliance, privacy, disaster recovery, Netlex.cloud è dotato del modulo del deposito telematico più semplice e intuitivo presente sul mercato. Inoltre Netlex.cloud ti consente di operare e collegarti al tuo studio legale in un click. Netlex infatti non si installa, è sulla nuvola. Accede al tuo studio tramite una connessione internet da qualsiasi pc, che sia di studio, di caso o in un internet point, dotato di qualsiasi sistema operativo, Windows, Mac, Linux, oppure dal tuo tablet o smartphone, poiché Netlex.cloud è responsive. Grazie alla firma remota e al proprio PDA, punto di accesso dedicato, non avrai più problemi con i dispositivi di firma digitale, con gli antivirus che vanno in conflitto con i token, in quanto percepiti come minacce, con Java e browser Chrome, Explorer e Mozilla. In aggiunta, Netlex ha il modulo per la fatturazione elettronica, la nota di iscrizione a ruolo con il codice a barre per le iscrizioni a ruolo cartace, l'agenda legale, l'anagrafica, clienti, la gestione e la fiscicolazione delle PEC nelle proprie pratiche, il polisweb e la conservazione documentale a norma. Un prodotto unico sul mercato, tant'è che il Corriere.it e Startup Italia, nonché Economy Up, hanno dato la notizia che uno dei principali player del mercato o degli avvocati, Team System, ha acquistato il 51% della startup Netlex, a conferma della validità e della solidità del prodotto. Conviene acquistare Netlex anche perché in questi giorni è in corsa la promozione di Natale. Per i nuovi utenti c'è lo sconto del 50% sull'attivazione. Perché non approfittarne? E se ancora non sei convinto, nella descrizione del podcast trovi anche la possibilità di attivare una prova completa di tutte le funzionalità per 14 giorni. Per presentarti invece la seconda soluzione tecnologica, ti faccio una domanda che può sembrare a molti provocatoria, ma è un fondo di verità. Qual è il più grave problema che un avvocato tecnologico oggi può vivere? Pensaci un attimo. La fame e la sete nel mondo? No. L'assenza di internet? No. Oggi è quasi impossibile rimanere senza internet se si è attrezzati. I nostri smartphone ormai sono anche dei router portatili, consentendo anche la condivisione della connessione. Sempre più si stanno diffondendo hotspot pubblici anche e per necessità possono essere impiegati sempre con un occhio alla sicurezza. Oggi il più grave problema per l'avvocato tecnologico è rimanere con la batteria a scarica del proprio terminale. Di caricatori d'emergenza ce ne sono a bizzeffe, in pochi però riescono a coniugare capacità e ingombro. Panorama.it ci segnala la proposta di Leitz Complete, un powerbanker che ha le dimensioni di una carta di credito e garantisce una ricarica pari al 50% di una batteria media di capacità di 1350 mAh. Già integrato con un indicatore di stato a LED, pensato solo per iPhone e altri dispositivi iOS. Il prezzo è di 47€ circa e acquistabile sulle principali piattaforme di e-commerce come Amazon e Ebay. In caso di assoluta emergenza, sempre Panorama.it ci segnala anche quest'altro utilissimo gadget di una startup tutta italiana di Ludovico Cianchetta e Francesco Crema. PowerMe è un cavetto all-in-one, comodo da trasportare come portachiavi, che consente il trasferimento automatico di energia da un dispositivo all'altro. Basta inserire il primo dei due gespinotti nello smartphone più carico e il secondo in quello rimasto a terra per avviare il passaggio diretto della carica. Un regalo pratico e economico che potrebbe rivelarsi utile per tutti coloro che si trovano spesso con lo smartphone in riserva. Compatibile con ogni micro USB device, sia in ambiente iOS sia Android. Sulla piattaforma Indiegogo è attiva la campagna Craft Funding. Il costo di partenza è di 10,99€. Il sito di riferimento è GetPowerMe.com. Il terzo e ultimo regalo che ti propongo è lo scanner portatile ScanSnap EX100 della Fujitsu. Con un peso di soli 400 grammi, lo ScanSnap EX100 è dotato di una batteria agli ioni di litio ricaricabile mediante USB che consente fino a 260 scansioni in A4 per carica completa. Questo modello, grazie alla possibilità di scansionare i documenti tramite una rete wireless o l'applicazione dedicata, garantisce l'opportunità di effettuare scansioni ovunque e in qualunque momento. Il software di gestione è integrato con le principali piattaforme cloud, quali Dropbox, Evernote Drive, OneDrive e Google Drive. Costa 229€. Se vuoi vedere anche la prova, ti segnala l'unboxing del canale YouTube Alex Channel. Il link è in descrizione. È vero che i fascicoli saranno sempre più digitali nativi, ma la carta ancora resiste. Avere uno scanner portatile ad alte prestazioni potrebbe essere la soluzione ottimale in favore del digitale, in un'ottica sempre più cloud e mobile, liberi dai supporti analogici. Davvero avvocato tecnologico. Termino qui questa puntata speciale. Ti sono piaciute queste segnalazioni? Fammi sapere la tua commentando la puntata oppure condividendomi altre soluzioni da testare o da condividere con gli altri avvocati tecnologici. Ti rinnovo i miei auguri di un Natale sereno. Nella prossima puntata, che cade il primo gennaio 2017, festeggeremo insieme il primo anno di vita del podcast. Sembro passato un secolo quando ho iniziato questa avventura per gioco, con una semplice nota vocale sul canale telegram.me slash pctfacile. Sarà occasione per brindare all'anno nuovo, puntata in cui faremo anche il punto sullo stato dei processi telematici. Ma come ogni tradizione che si rispetta, farò anche le previsioni future sulla digitalizzazione della giustizia in Italia. Il 2017 si preannuncia pieno di novità. Ti saluto ricordandovi che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento. Ciao! Grazie a tutti!